Ovviamente nella veste di consigliere comunale ancorché di minoranza, però anche presidente di un civico consesso quale quello di Ischia o Torino-Mattara, come mai non vi suona questa cosa di dover ricavare una pista ciclabile all'interno di una pineta? Riteniamo che il lavoro che si stia svolgendo preveda tutta una serie di interventi che stravolgono la natura della pineta. Se si assecondava la natura, anche i dislivelli, le quote, l'orografia del terreno senza mortificare troppo le piante, la vegetazione, l'ecosistema, il microclima che c'è in questo parco, allora si poteva anche immaginare, ammesso che fosse stato possibile. Noi crediamo che invece la pineta vada integralmente salvaguardata, quindi non è possibile realizzarvi dentro una pista ciclabile tale che la pineta non esubisca delle conseguenze. Dunque noi sappiamo che la pineta è vissuta anche da fauna, flora, tutta una serie di piantagioni, di essenze arbore, anche particolari, anche di una certa sensibilità, di un equilibrio che basta poco a rompere perché già Ischia vive di una storia di cementificazione, di aggressione al territorio e l'unico polmone integro era questo. Ora qualsiasi intervento va fatto, andava fatto, andava fatto seguendo le regole della salvaguardia di questo ecosistema. Questo secondo noi non è stato fatto, comunque non è in corso un qualcosa che salvaguardia questo ecosistema. Quindi le trincele, gli scavi, lo spostamento delle roccaglie, il taglio delle radici non sono assolutamente compatibili con tutto questo. Quindi non abbiamo nulla da aggiungere, c'è poco da dire. Non è possibile violentare la pineta come si sta violentando la pineta. Tutto ciò è passato attraverso un dibattito e una spiegazione all'interno del civico consesso o se andate avanti così, secondo una linea, a noi ancora ignota, anche ai più, di quella che è l'idea di mobilità del territorio da parte di questa amministrazione comunale. Allora, tu sai che io ho fatto una trasmissione con te una decina di giorni fa. Vi abbiamo detto che non c'è stato dialogo come non c'è stato. I motivi per cui non ci sono stati e che poi le cose vengono realizzate e i danni delle loro realizzazioni poi vengono ormai troppo tardi alla conoscenza della popolazione e anche di una parte della classe politica. Noi non siamo stati coinvolti come classe politica, allora eravamo in maggioranza. I motivi per cui abbiamo preso le distanze sono stati anche questi, perché su scelte importanti dell'amministrazione questa parte politica, quella parte politica non veniva messa nella condizione di dire la propria. anche se in una maggioranza poteva essere minoranza, quella voce stonata non è stato possibile e dunque a un certo punto abbiamo preso le distanze. Oggi ci rendiamo conto, perché solo durante l'esecuzione abbiamo potuto verificare, sai che siamo stati lì, ci hanno negato le carte, quando ce le hanno date quelle carte non erano ancora talmente chiare da farci capire effettivamente l'intervento in corso, solo quando siamo venuti sul posto e l'abbiamo fatto denunciandolo abbiamo capito la gravità di quello che stava succedendo. Noi!